La Chiesa e l'umanità intera Consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina, provvedi al mondo la pace. Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra sana. Questo è uno dei frutti della guerra. Caminar juntos, rezar juntos, trabajar juntos para che i soffriamenti del passato deixino il luogo a un futuro di justizia, di sanazione e di reconciliazione. La Chiesa e l'Ucraina Il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa Emerito Benedetto XVI. Ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. Non perdete mai la speranza e non si perda l'occasione di costruire la pace.